Stiamo lavorando per garantire il ritiro precampionato del Cosenza Calcio in Sila. C'è una volontà politica che è quella dell'ente provincia da Meguidata, c'è una volontà da parte del presidente del Cosenza Calcio, quindi una volontà anche sportiva. Stiamo mettendo insieme quelle che sono le esigenze di entrambe e speriamo di riuscire in questo grande obiettivo. Questo garantirebbe non solo alla squadra di allenarsi in Sila, ai tanti tifosi di poter stare vicino alla squadra e perché no ambire a quella che è la Serie A e che tutti noi vorremmo.